Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, un chilometro di coda per incidente tra Calenzano e BV1 Variante in direzione di Bologna. Carreggiato opposta, coda in uscita a Firenze Sud per traffico intenso. In direzione Sud troviamo inoltre rallentamenti per perdita di carico tra Barberino e Calenzano. Sulla Firenze Mare resta coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. In fipilico di attratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Ci spostiamo sul bypass del Galluzzo, statale 741, quest'oggi sarà chiuso al traffico nelle due direzioni a Firenze in orario 10.30-13.30 per consentire prove tecniche relative agli impianti tecnologici all'interno delle gallerie. Deviazioni in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo che siamo presenti anche su Telegram. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!